Il TED Technology Entertainment Design è una conversazione globale su idee che aiutano il mondo a essere migliore. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha deciso di ospitare un TED in una delle sue stazioni più innovative perché noi muoviamo, accompagniamo l'economia della creatività. Il digitale è parte integrante del nostro gruppo, è un digitale che consente il nostro lavoro tutti i giorni, l'Internet of Things, quindi è quello che ci aiuta a muovere i nostri treni, a lavorare in grande sicurezza sulle nostre reti ferroviarie. C'è un lavoro straordinario anche dietro le nostre app e i nostri sistemi di interlocuzione con il cliente. Questo si deve percepire sempre di più, noi dobbiamo essere in grado e capaci di raccontare che cosa c'è dentro questo campione nazionale e quanto il digitale sia parte integrante della nostra offerta. Il mondo del digitale, il mondo che si sviluppa attorno alle idee è fondamentale per la nostra crescita e il nostro essere integrati nella realtà quotidiana. Il ruolo che possono avere le start-up è sicuramente quello di dare grande energia e grande visione su quelli che sono i momenti più innovativi del nostro paese e non solo. Gruppi di questo genere che sono grandi hanno bisogno quotidianamente di nuova linfa per rigenerarsi e per essere sempre al passo con i tempi.